Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente, a Gerusalemme, e dicevano, Dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re Erode restò turbato, e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli iscrivi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero, a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta, E tu, Betlemme, terra di Giudea, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giudea. Da te, infatti, uscirà un capo, che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, ci visse dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Betlemme dicendo, andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore! Lode a te, oh Cristo! Gentilmente, rimanete in piedi un attimo, perché oggi la Chiesa ci fa l'annuncio della Pasqua. Abbiamo addirittura acceso il cereo pasquale. Questa festa lega direttamente con il mistero della morte e risurrezione di Gesù. Ascoltiamo allora l'annuncio della Pasqua. Annuncio della Pasqua Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il tridu del Signore Crucifisso, sepolto e risorto, e culminerà nella domenica di Pasqua il 21 aprile. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i santi giorni. Le ceneri, inizio della Quaresima, il 6 marzo. L'ascensione del Signore, il 2 giugno. La Pentecoste, il 9 giugno. La prima domenica di Avvento, il primo dicembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi, e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla Terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo, che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. E credo che aver sentito questo annuncio ci permette anche di capire un po' più correttamente la festa che stiamo celebrando. facciamo un piccolo esercizio. Usciamo dal presepio. È bello il presepio, eh? Benedetto Francesco, eh? Che cosa meravigliosa, quando l'ha proprio dato a tutta quanta l'umanità. Però, è anche pericoloso il presepio, perché ci tiene in quel contesto lì, guardatelo, che bello. Magari anche un po' di folclore. I magi ci portano invece verso noi stessi, verso l'umanità. Non è folclore questo. Pensate che i magi rappresentano tutta quanta l'umanità che si orienta, vengono dall'Oriente. sapete la parola orientarsi? Perché altrimenti corriamo il rischio di disorientarci, di perdere l'orientamento. I magi vengono e portano con sé tutta quanta l'umanità. Siamo noi i magi, sono io, sei tu. Ma anche quello di là, quello di là del muro, quello di là. Ogni tanto mi vengono in mente e i cinesi. Ma intanto ve lo dico, sapete, no? Provate a pensare in questa parola, così, no? Buttata lì. E i cinesi! Perché noi corriamo un rischio terribile. Quello di dire, eh sì, noi abbiamo la verità. Noi siamo gli unici. Noi siamo... Dio ama tutta l'umanità. Ma volete che Dio non sia padre? Non sia conosciuto? Non ami anche quelli al di là delle cortine, dei muri che noi abbiamo costruito, no? Oggi è la festa dell'umanità. Oggi è la festa di una ricerca che c'è in giro per il mondo. La ricerca di Dio. Tutti gli uomini la fanno. Magari per strade sbagliate. Magari per strade che non portano alla verità, non portano a Cristo. Ma quanta gente! È la festa delle scaesagne. Sapete cosa sono le scaesagne, vero? Ti metti in un cammino, in un sentiero, e ti trovi in mezzo al campo. Ma quanta gente! Oggi è la festa di tutti coloro che cercano Dio anche per strade, le più sconnesse. E sapete perché? Perché Dio ci ha già trovato. Noi cerchiamo Dio perché Lui ci ha già incontrato. Dove noi siamo? Lui viene verso di noi. E si manifesta, si rivela. Ecco il senso dell'epifania, rivelazione. Che belli allora questi magi! Tra l'altro sapete, no? Li abbiamo... Guardateli lì, eh? Gli abbiamo messo la corona in testa, poveri Dio. Sono maghi! Noi abbiamo addirittura cambiato il nome, magi, per renderli un po' più poetici. Gli abbiamo addirittura metto la corona in testa. ma sono i più distanti da Dio che si possano pensare. Pensate che nel primo catechismo della Chiesa, si chiama Didachè, ci sono tre peccati, tra i più gravi, rubare, abortire e magia. Capite? Sono maghi! Quindi, i più distanti, quelli più considerati, quelli rilasciati là, Dio li ha trovati. E sono stati capaci questi qua, no? Io sono capace, tu sei capace, tutta l'umanità è capace di leggere una stella. Adesso, per l'amor del cielo, anche qua, eh, non abbiatene a male con me. Ma noi andiamo a cercare la stella in cielo, vero? Ci hanno fatto delle costruzioni, la stella Hallei era lì che girava nei tempi di Gesù, l'anno 12, ma va là! La stella è qualcosa di molto più serio. È dentro di me la stella. È nelle scritture la stella, nella Bibbia, è in tutti quei segni che ci sono dentro, intorno a noi, che ci portano verso un mistero, verso il mistero di Dio. Eh? E tutta l'umanità è capace di questo. Noi non siamo più bravi, eh? Noi non siamo più bravi perché siamo italiani, siamo cattolici, siamo cristiani, siamo tutte quelle robe lì. Noi non siamo più bravi, siamo semmai più fortunati. ma tutta la gente, tutta la gente è chiamata, invitata, portata verso, e vi dicevo prima, perché questo? Perché Dio ci ha già trovato. Perché Dio ci ha già trovato nel suo cammino, nella sua manifestazione, nel suo percorso verso l'umanità. Che bella che è allora questa festa. Dio non è chiuso in un piccolo gruppo, mai! e quando un piccolo gruppo tenta di possederlo, Dio va al di là, si ribella, salta fuori, addirittura Gerusalemme, poveri maghi, magi, sono andati a Gerusalemme a cercarlo. Non c'è a Gerusalemme, non può esserci. La città di Gerusalemme, semmai, uccide Gesù, eh? È a Betlemme, nella periferia. Quindi questi maghi, magi, indicano anche i percorsi, i sbagli che si fanno. Addirittura sono andati da Erode a chiedere informazioni con l'assassino. Eh? Sono sbagliati anche loro. Dov'è? 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 Il re che è nato. Erode, l'assassino, pensate che aveva ucciso, ha ucciso, tre suoi figli perché teneva tanto al suo scetro, al suo potere che pensava che i figli glielo rubassero. Gli ha uccisi, tre. Quindi immaginatevi, no? Rappresenta veramente questo potere che è menzognero e assassino. Eppure, interessante, guardate che anche Erode una cosa l'ha detta di interessante, di bella. quando chiama i magi per i suoi interessi, eh? È vigliacco, eh? Addirittura Gesù lo chiamerà, è un altro Erode ma è ben parente, eh? Dice che quella volpe l'ha. Bene, chiama i magi e dice dov'è il bambino? Andate a cercarlo. È un invito che fa a me e anche a te. Venite a dirmelo dopo. E questa parola io l'ho sentita veramente mia anche, no? dai che andiamo a cercare questo bambino e dopo andiamo a raccontarlo, a dirlo anche agli Erodi. Assassini che ci sono in giro e hanno più bisogno di quanti, no? Dobbiamo raccontare l'incontro di questo bambino che ci cambia la storia dell'umanità perché il mistero di Dio è per tutti. Anche gli Erodi, anche i potenti hanno bisogno, anche se loro pensano di non aver bisogno di Dio e si addirittura mettono al posto di Dio. E allora questi Erodi vanno, riprendono il cammino, ritrovano la stella appena fuori dalla grande Gerusalemme, l'ombelico del mondo di allora e trovano questa stella che li porta ancora, no? Non è una stella atmosferica, è una stella proprio dentro, interiore, arrivano proprio davanti e entrano e incontrano e c'è la parola si inginocchiano e adorano, è quello che posso e devo fare anch'io, perché altrimenti andiamo a cercare altre divinità e quante volte purtroppo tante divinità si sostituiscono al vero unico Dio, all'unico Signore e adorano un bambino, interessante anche questo, sapete, non hanno ancora il risorto davanti agli occhi, non hanno ancora il crocifisso davanti agli occhi, un bambino, eppure l'intuizione, ma quanta gente, no? Ha queste intuizioni, perché Dio con questi suoi appelli arriva ai cuori di tutti quanti davanti a un bambino e si inginocchiano e l'adorano, è il Dio della vita, che bello, non è il Dio della morte, è il Dio della vita, e poi, dopo aver adorato, offrono i famosi doni, no? Che li hanno addirittura fatti diventare tre, ma c'è alcuni magi, possono essere una carovana, ok? Ma offrono oro, incenso e mirra, oro, c'è una regalità in quel bambino lì, in quel Dio che ci incontra, c'è una nuova regalità, che non è chiuso a un piccolo gruppo, un piccolo popolo, no? Loro pensavano che fosse il re di Israele, ma va là, è il re di tutta quanta l'umanità, è il regno di Dio che è venuto a portare sulla terra, oro allora, incenso, incenso è il profumo che offrivano i sacerdoti al Tempio, adesso non è solamente Israele che offre questo, non è solamente un piccolo sacerdote, un piccolo prete, ma è tutta l'umanità che è capace di mettersi in contatto con questo Dio, e poi la mirra, pensate che la mirra era il profumo delle spose, il giorno delle nozze si cospargevano di questo unguento profumato, e allora Dio vuole veramente sposare tutta l'umanità, eh? perché vuole mettere un'alleanza nuova con tutta quanta l'umanità, per altre vie poi ritornano al loro cammino, eh? vuol dire che Dio si incontra continuamente per altre strade, non chiuderti, vai, dai, cercalo, lui ci ha già trovato, buona epifania allora, buona epifania, avete intuito che questa festa non è così folcloristica o poetica, eh? C'è molto e molto di più, c'è proprio questa ricerca dell'uomo nei confronti di Dio e questo Dio che si avvicina, si manifesta, ci incontra nella nostra realtà e nella nostra quotidianità e l'incontro è rivolto a tutti, tutti gli uomini, nessuno è superiore o migliore degli altri. Buona festa dell'epifania, buon cammino a tutte e a tutti.